tu avresti curiosità di iniziare a imparare un'altra lingua sempre con questo metodo che hai visto lì nel corso vita sto provando a farlo col tedesco adesso veramente stai utilizzando le stesse più o meno lo stesso concetto la stessa modalità di apprendimento col tedesco hai già imparato qualcosa da quando hai iniziato a studiare il tedesco iniziato sei mesi più o meno da sei mesi e come come va va bene non ho ancora avuto l'opportunità di praticare la conversazione in tedesco però riesco già a capire bene quello che riesco a essere libero un po